Hola a todos vapers, bentornati nel mio angolo dello svapo, qui come sempre c'è il vostro DJ Vise Signori, quest'oggi video, diciamo spoiler, ma anche molto interessante Ebbene sì, perché qui in mano ho le scatole di due prodotti che secondo me formano una combo pazzesca, indistruttibile Parliamo di due prodotti, uno conosciutissimo che è l'Inokin Ares 2 E l'altro invece che è la nuova Aspire, illegibile, penso sia un mix Spero si lega così, non lo so, mix, va bene Due prodotti che comunque non costano molto, perché comunque con 60-70€ ve li portate a casa entrambi E vi faranno avere una combo, oltre che super elegante, allo stesso tempo iper resistente Ebbene sì, perché la smoke, come vedremo in questa settimana, è fatta di un materiale che sembra acciaio Che è veramente indistruttibile Oltre questo, ha delle caratteristiche veramente molto interessanti Insieme all'Ares secondo me veramente è un kit da paura per il tiro di guancia Se state cercando un kit di guancia che volete sempre portarvi dietro, usare come muletto Ma allo stesso tempo lo volete abbastanza elegante Questa combo è quella che vi consiglio io Ossia una box piccola, compatta, ma allo stesso momento bella resistente agli urti E un atomizzatore letteralmente migliorato sotto tantissimi punti di vista, come vedremo più avanti Ottimo per il tiro di guancia e anche, perché no, per quello di flevoro Andando a svappare con una batteria 18650, a wattaggi comunque da guancia abbastanza bassi Io in questo caso sono a 18 watt Non c'è il rischio che la batteria si scarichi molto velocemente Anzi, tutt'altro La gestione della batteria insieme a questo atomizzatore è veramente da paura Questo ragazzi è un piccolo spoiler che vi farò di questi due prodotti che usciranno più avanti Ma volevo assolutamente portarveli insieme per iniziare questa nuova playlist Che si chiama Combo da avere Quindi ragazzi, la prima combo da avere Per chi ama il tiro di guancia Abbiamo come atomizzatore l'ARES 2 by Inokin E come box la Aspire Mix Spero che si legga così in collaborazione con Sunbox Nel dettaglio le vedremo più avanti E io ragazzi che altro devo fare se non salutarvi E come sempre invitarvi a lasciare un bel mi piace Condividere il video e condividere anche il canale Dal mio angolo dello svapp è tutto Il vostro DJ Vise Conclude E quindi va a dirvi Buona svappata a tutti Ciao belli Ciao 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 Grazie a tutti.